Beh, questa amministrazione si è presa una grossa responsabilità a livello politico e la sta portando avanti, contrariamente a quello che si è sentito dalle opposizioni. Dalla sinistra arrivano le prediche relativamente alla presa di posizione politica riguardo queste cose, ma negli anni passati che cosa è arrivato dalla sinistra mentre dal 2013 al 2015 stava il governo? E' arrivata la 140, grazie, adesso la sinistra ci chiede di revocarla, di abrogarla, benissimo, questa è la grossa presa di responsabilità. E l'aula, l'aula consigliare della sinistra dal 2013 al 2015, come è intervenuta su questo problema? Cioè, questo aspetto sociale adesso così tanto rilevante per voi è veramente estremamente rilevante per noi, come è stato dimostrato negli anni precedenti? Che cosa ci avete lasciato in eredità? Qual è il punto di partenza da cui noi dobbiamo cominciare a lavorare adesso? Il nulla, il vuoto, anzi, sarebbe stato meglio il niente rispetto a questo. Quasi 800 concessioni scadute negli anni, un regolamento dell'83, dal 2013 al 2015. Voi il regolamento non ci avete pensato? Non l'avete fatto? Una piccola norma transitoria rispetto al regolamento dell'83. Non l'avete votata? Non l'ha richiesta l'opposizione? Non l'ha presentata la maggioranza? No, non è successo niente. Adesso però sono buoni a pontificare il lavoro degli altri. Il lavoro che qua ha previsto già due mozioni in aula, una delibera, anzi, due delibere della Giunta. Un tavolo di lavoro che ha portato a produrre una regolamentazione che ha aiutato noi, noi consiglieri dell'Assemblea Capitolina, a depositare un regolamento. Nel frattempo abbiamo incontrato le associazioni, si sono aperti dei tavoli di confronto e noi non abbiamo fatto niente e non prendiamo la responsabilità politica. Diciamo che noi stiamo raccogliendo le macerie e con grande sforzo e perseveranza stiamo andando avanti. Il regolamento è protocollato. Stiamo predisponendo una mail istituzionale a cui tutte le associazioni potranno inviare le loro modifiche e le loro proposte. Ci sarà un iter in commissione. Sarà tutto trasparente perché la commissione patrimonio per ben due volte ha fatto una commissione su questo, ma anche degli incontri fuori dalla commissione. Quindi ci stiamo predisponendo per poter incontrare, per poter accettare, per poterci confrontare per l'ennesima volta su un tema molto molto difficile, su cui appunto abbiamo visto agire la Corte dei Conti fino adesso. Adesso ci sono delle sentenze che vanno in aiuto sicuramente di tutte quelle realtà sociali, di tutti quei servizi sociali che stiamo svolgendo. Allora, vorrei mettere in chiaro che la proposta di deliberazione presentata di cui parlava il consigliere Corsetti e di cui stiamo aspettando ed ho sollecitato in qualità di Presidente anche i pareri degli organi preposti, comunque in uno dei deliberati dice, infine, nei casi in cui venga accertata la non corrispondenza delle attività effettive svolte con quelle che hanno dato origine al rilascio della concessione a canone ridotto, quindi un esame della qualità, ma a posteriori. Perché non l'avete fatto nel momento in cui queste associazioni agivano? E noi dobbiamo andare a posteriori a vedere se dieci anni fa, cinque anni fa, tre anni fa ancora svolgevano quello per cui avevano avuto o non avuto la concessione. Mi sembra un po' discriminante, comunque verrà applicata la sanzione del recupero immediato del bene e l'obbligo della corresponsione del canone nella misura del 100% a far data dal momento della concessione in uso dell'immobile. Cioè, qua torna il 100% del canone di mercato. Allora, è questa la proposta di salvaguardia della delibera del PD? E poi, è carino usare il termine la norma transitoria, ma la norma transitoria, se non la si inserisce all'interno di un regolamento, non è transitoria, è una norma. Cioè, voglio dire, bisogna anche fare attenzione alla terminologia che si usa e a quello che si dice per non dare false speranze e per cercare di lavorare veramente tutti uniti in un'unica direzione. Vorrei chiudere invitando a guardare, a cercare su internet il video abbastanza recente dell'ex vicepresidente Nieri sulla 140. Ecco, lì si capisce perfettamente chi, nella precedente amministrazione, ha governato la politica in materia di concessioni. E questo senza falsa ipocrisia. Grazie. Grazie. Grazie.